Ciao ragazzi! Oggi abbiamo raggiunto insieme un fantastico traguardo! Siete già 10.000! E per ringraziarvi al meglio vogliamo mostrarvi il lato oscuro della nostra folle creatività, regalarvi il meglio del peggio di Top 10 Parade! Siete pronti? Via con lo sproloquio remix! Arrivare a fine mesi di questi tempi... Cominciamo! Arrivare a fine mesi di questi tempi è dura, c'è quindi chi... Oddio! Non ce la farò mai! Allora, rifaccio! Non bisogno... No, ma dai dai! Niente, non sono un trasignato io! Vaffanculo! Ah ok, sì scusa! Allora, beh, gli irlandesi sono da sempre un popolo di viaggiatori! Insediatesi di... Ne sono una prova alle vicende di Eileen Gref, meglio conosciuta come la sumer immobiliarista... Ma è qua proprio oggi... Morissimo di bastardo! Ah! La coppia più di genitori con... Non avevo visto... Cioè avevo visto... Non ci credete? Non ci credete? Guardate... Non ci credete? Guardate allora la 3D Life Path... Vaffanculo! Questo brano... Ah! Distruggendo tavolette infuocate a colpi di testate nucleari... Ah ah ah! Che si ritrova per eredità un niporte... Vaffanculo! Ciò che resta ben... Vaffanculo! Se ne... Se ne... Se ne... Qui, dati i più recenti scontri... Ah! Le diegi... Tra i più accesi ci sono... Il fatto che la tifosi si è... Volete sapere come e quando sono... Eh? Come sono... Ok... Ash, infatti, è il suo avatar... Avatar! Bello avatar! Che è l'avatar di Toro! Sarà bello un backstage qua proprio! Back, back, back! Grazie!